allora ragazzi stiamo per fare la truna nomination di gruppo della classe vediamo i bicchieri e di limoncello quindi chi ha i bicchieri per limoncello bozza premo allora ragazzi iniziamo poi facciamo la nomination 3 2 1 vai che cazzo volevo che cazzo mi devo fare allora ragazzi allora ragazzi nominiamo nominiamo la preside Devin Gentis Devin Gentis Devin Gentis Devin Gentis è la professione è la professoressa andatelo a fare altrove è la professoressa mamma parmi Iscriviti iscriviti Ciao!